Buongiorno a tutti ragazze e ragazze, io sono Angela ed eccomi ritornata in questo nuovo video dedicato alle anticipazioni di Beautiful. Che cosa sta succedendo a Thomas? Vi faccio un piccolo riassunto perché il figlio di Ridge ha fatto costruire in sua misura e ordine un manichino con le sembianze di Hope, ma ben presto lo verrà a scoprire anche Liam. Se diamo uno sguardo alle anticipazioni americane di Beautiful ci possono dire che la follia di Thomas nei riguardi della sua ossessione di Hope sarà sempre più forte, infatti ha fatto costruire un manichino con le sue sembianze e somiglianze e ha vissuto con lei arrivando anche addirittura a parlare con la bambola. L'ossessione di Thomas però, come vi dicevo, verrà scoperta da Liam che andrà su tutte le furie. Il manichino in casa di Thomas verrà finalmente a galla. I figli di Ridge e Bill si troveranno a discutere fuori dall'appartamento proprio di Thomas e durante una lite Thomas sbatterà la porta della sua abitazione lasciando Liam fuori. Ma lo Spencer riuscirà a spingere la porta e ad entrare nell'appartamento del figlio di Ridge così vedrà il manichino di Hope. Liam rimarrà sconvolto e incredulo vedendo ciò che sta succedendo, cioè un manichino con le sembianze di sua moglie, quindi chiederà spiegazioni con tono molto acceso a Thomas dicendo cosa è questo, cosa diavolo è questo. Thomas però ormai con le spalle al muro per essere stato scoperto sospirerà e guarderà a terra, ma adesso non sappiamo darvi alcuna anticipazione a riguardo su cosa accadrà. Lo scopriremo ovviamente presto, quindi voi continuate a seguirmi. Grazie Grazie